Un drago Aspetta un secondo Allora il flow ce l'ho, però non è tipo quasi terzinato Il tecnicissimo, capito? Capito? Che nessuno può dire niente Cioè il pezzo è però... Faccio una strofa che mi scapisce un cazzo Occhio ciclopico Per i stai scusate, mi è venuti in per prendere tempo Che era tipo, sai che rappresento E va così, e va così E va così E c'era questo che faceva Occhio ciclopico, motosonico, intriso E c'era tutta la roba Con l'occhio aperto e uno chiuso Poi aveva 15 anni, lui aveva già tipo 45 Occhio ciclopico E sotto i nerd E lui si trova in generale, diciamo Ma perché va un casino? Non si capia niente, raga Che bei tempi Siamo saliti, mi avete portato tu e Vince Io mi ricordo, ero ubriaco marcio, mi ricordo solo Tua mamma, la voce di tua mamma per insieme fa Cemi e tu, si mamma E tua mamma, prendo la bacinella Cemi e prendo la bacinella E' incredibile perché tipo Io mi ricordo delle cose E lui se ne ricorda delle altre, assurdo Incredibile Ciao Ciao Ciao